Tanto grazie, buonasera a tutti, grazie per questa presenza, io non immaginavo che fosse così, poi alla fine per la verità lo immaginavamo pure perché abbiamo visto che c'erano tante richieste, quindi eravamo quasi, avevamo quasi deciso di cambiare luogo, ci scusiamo perché in questa stanza siamo un po' stretti, quindi un po' più disagiati, ma poi abbiamo deciso di non cambiarlo perché avremmo avuto difficoltà, però ci tenevo ad incontrare i cittadini come è solito, come è stato anche negli anni passati, quando si tratta di prendere anche delle decisioni importanti. E dopo un lavoro che c'è stato in questi mesi, io ricordo che i primi mesi del 2011 quando abbiamo iniziato il nostro lavoro, durante le prime settimane ci siamo spessi moltissimo, non solo per organizzare i servizi, compreso quelli che ricordate delle cooperative, del verde della città, che riguardavano il trasporto pubblico con la circolare, insomma tutti i servizi sull'illuminazione pubblica, ma abbiamo fatto un'attività di indirizzo e di programmazione anche su quello che poteva essere il futuro della città con un quadro, diciamo con una visione complessiva di opere pubbliche. Anche questa volta abbiamo fatto in questo modo, questi mesi ci sono serviti per lavorare, per riorganizzare, noi abbiamo ereditato, lo voglio dire, un bilancio tecnico, anche se questo può sembrare in sostanza una scusa ma non lo è, entro marzo approveremo un nuovo bilancio, però abbiamo ereditato un bilancio del commissario che era un bilancio sostanzialmente tecnico e quindi tutte le questioni che noi avevamo affrontato negli anni che riguardavano per esempio in modo sistemico, perché quando c'è una buca per la strada non è che possiamo, ce ne sono migliaia di buche che si creano, non è che interveniamo su una, interveniamo su un sistema che chiaramente va prima organizzato e strutturato. Questo sistema, seppure diciamo in pochi mesi, 5 o 6 mesi, era un po' saltato, quindi abbiamo dovuto lavorare per riprendere in mano tutto un sistema di manutenzione, di organizzazione che adesso ancora, che fra l'altro con il quale adesso siamo bovuti. Nello stesso tempo abbiamo lavorato per il futuro di questa città e con opere che oggi si possono, oggi si può dire dopo questo lavoro di programmazione, che potremmo buona parte di queste portare già in base di candierizzazione nei prossimi mesi, perché queste opere finiscano poi durante il nostro mandato, perché dobbiamo ricordare che qui non parliamo di fantasie o di cose che sono assolutamente lontane da essere realizzate, ma parliamo di cose che effettivamente possono, se non ci saranno ostacoli, perché poi questo solo il Padre Eterno lo sa, sapete con quanta determinazione andiamo avanti, ma dovete sapere pure fra quanti ostacoli andiamo avanti e spesso voglio dire che queste azioni sono rallentate. Per oggi io vi voglio informare di quello che sta succedendo. Ovviamente in questi mesi, come sapete, c'era stato lo scioglimento, c'era stata una questione, vado subito al punto fondamentale, perché ho sentito delle voci, il sindaco ha cambiato parere, ha cambiato opinione, ha chiesto delle contropartite, allora vado subito al punto diretto, non ho cambiato assolutamente opinione, sono sempre la stessa opinione, adesso sto ricercando e ho ricercato le stesse, come non ho cambiato opinione sulla metro, non ho cambiato opinione neanche sull'ospedale ovviamente, quindi nemmai la cambierò, perché poi non sono opinioni che sono così tanto per dirle, è un'opinione, sono opinioni suffragate, diciamo da studi e da motivazioni che negli anni ho rappresentato anche ai cittadini, non per campagna elettorale, ma l'ho detto nel 2011, da quando c'era Scopelliti ho fatto delle lettere, che sono anche pubbliche, che possono essere ovviamente anche pubblicate, anzi pubblichiamo, qualche volta l'ho messo anche sui social queste lettere, adesso sto ricercando tutte le interviste, compreso alcune che ho visto in campagna elettorale, dove ho continuato a dire la stessa cosa. Quindi ho sempre detto che io non sono contro il sistema di trasporto pubblico urbano, né tantomeno sono contro le ipotesi di metro o di tramvia, sono e sono contro quel progetto di trasporto pubblico urbano e contro quel progetto di metro che era stato appaltato, per una serie di ragioni. Innanzitutto perché non voglio che venga abbandonata la linea esistente, quella che va diciamo lungo il fiume, con le stazioni su via Popilia, che adesso sono completamente abbandonate. E quindi una delle proposte essenziali, diciamo che ho chiesto alla regione, è quella di elettrificare la linea esistente, quella che è sul fiume, lungo il crati, con le quattro stazioni, anche con la riqualificazione proprio fisica delle stazioni, anzi sono cinque, che sono suboccupite fino a ora. E quindi questa è una delle proposte e delle richieste che fra l'altro ancora non sappiamo. La regione adesso mi ha detto che il Presidente sarebbe disponibile ad accogliere queste cose, però vuol dire, questo vi dico quali sono, qual è l'elenco delle proposte, partendo subito dal punto principale, perché se non passava questo punto principale era inutile chiedere anche le altre cose. Quindi noi non è che ci siamo accordati sulla metro perché la regione ci fa fare altre cose, al comune, che fra l'altro non è che sono del sindaco chiuto, sono della città, quindi sono comunque cose, attività che noi riteniamo assolutamente utili. Ci siamo accordati e ci accorderemo, se adesso Oliverio, io gli ho detto che avrei dovuto fare questi passaggi, dopodiché gli avrei detto se questo accordo era praticabile o meno, e poi lui mi farà sapere a strettissimo giro se l'accordo è possibile firmarlo. Dopodiché, voglio dire, l'altra richiesta era quella che riguardava la sostenibilità ambientale, paesaggistica, sapete, io credo di essere un urbanista, mi sono sempre occupato di questi temi e quindi penso, ho detto anche al Presidente Oliverio, non è che sto parlando perché, tanto per dire che io voglio dire una cosa contraria alla tua, così come per l'ospedale, parlo per un fatto, diciamo così, di competenze, e di conoscenze che credo di avere e quindi siccome casualmente, pro tempore e anche per fiducia soprattutto dei cittadini sono sindaco di questa città, devo esprimere quello che è la mia opinione, anche con le competenze che ho rispetto a questi argomenti. Secondo me, poiché su Via Le Parco c'era il vecchio tracciato, c'era il vecchio rilevato che sostanzialmente insieme adesso alle due carreggiate stradali, costituiva una barriera rispetto a una città che è nella zona est, che è nella zona di Via Popilia, che si sta riconnettendo al tessuto urbano con tanti altri progetti che adesso vedremo, ho detto non è possibile, cioè questa impostazione del progetto dove i mezzi passano con la tecnologia tradizionale che è quella che crea una barriera, non solo rimangono, nel progetto originario dovete sapere che c'erano le due strade, non vi ricordo se è stato appaltato, poi abbiamo fatto noi delle richieste, loro un po' hanno mitigato anche questo aspetto, però nel progetto originario erano previste le due sedi stradali con due binari che andavano sostanzialmente accostate al viale centrale e restava sostanzialmente un marciapiede, quindi avremmo avuto un viale cosiddetto parco, ma con due strade, con due binari e con un marciapiede. Ovviamente questo sarebbe stata una barriera tremenda perché oltre al traffico veicolare che è già di per sé una barriera si aggiungeva anche quella dei binari con i tram, con i cavi e tutto il resto. Ovviamente noi abbiamo detto che quello non era possibile perché la vocazione di quel viale, così come adesso è riconosciuto anche nella città, è una vocazione di parco ormai verde. I cittadini nel tempo libero, ma chiunque, voglio dire adesso lo vedo perché fra l'altro ci abitano, utilizzano quel viale di mattina, di sera, nelle prime ore della giornata, di sabato, di domenica, come se fosse un barco, fanno del footing attraverso una città, quindi utilizzano quelle aree a percorso benessere che noi abbiamo creato, quindi la vocazione di quel parco, di quel viale è una vocazione sostanzialmente di parco. Quindi noi abbiamo voluto nelle nostre richieste evidenziare questo aspetto e dire noi vogliamo ribaltare il senso del progetto. Da asse di scorrimento veloce e di attraversamento con dei tram, con dei cordoli, con dei cavi, questo deve diventare ancora più permeabile nel tessuto urbano, cioè deve consentire, diciamo, alla città, nella parte est di Iapopilia, di congiungersi quasi alla città, al centro città e quindi divenire un unico tessuto urbano, anche valorizzando questa vocazione. E quindi alla fine, diciamo, di queste proposte abbiamo chiesto che il viale parco fosse tutto, completamente utilizzato come un grande parco lineare, longitudinale, che tutti dicono del verde, ma il verde in città ha varie funzioni, non ha solo quella più banale, quella decorativa, dell'alberello, che può essere l'albero, ma come funzione decorativa può essere qualunque altra cosa. Ma la funzione che noi vogliamo dare vera nella città, in questo caso, è quello di creare un grande parco urbano al centro della città, dove le persone si riversano in questo parco, sia dalla parte est, sia dalla parte ovest, sia dal centro città e diventa, insieme poi a tutto il resto della zona pedonale, la Corso Mazzini e poi le altre strade che saranno via 24 maggio e via Montesan, una sorta di quadrilatero di città pedonale che viene completata da questo grande polmone verde. Questo polmone verde conterrà degli orti botanici, ho parlato pure con dei paesaggisti, con Stefan Tischer, registi importanti, o delle varie essenze vegetali, conterrà dei giochi d'acqua, conterrà dei percorsi benessere, delle attrezzature per bambini, dei percorsi tattili per i non vedenti, dei percorsi ciclabili, delle piste pedonali e sarà attraversato, questo diciamo, in questa interlocuzione con la regione, come asse trasversale, perché noi avremo questa metropolitana, però abbiamo sempre detto che questa metropolitana deve avere delle stazioni hub dove puoi interagire con il resto della città, perché se no non ha senso, così come negli assi trasversali, con dei mezzi che non devono avere né cordoli a terra, né barriere, né cavi, quindi non può essere un tram perché non può avere un gavo, una sospensione che è molto invasivo, ma devono essere dei mezzi permeabili, adesso se sono su gomma, se sono su ferro, eccetera, l'importante è che intanto lì non si scaverà più, perché c'è già la carregiata stradale, lì si fa rilevato a zichieri due binari sulla strada. E poi voglio dire, questi mezzi pubblici non inquinanti, elettrici, non avranno nessun tipo di barriera, quindi avremo un grande parco lineare, lungo circa due chilometri, per la larghezza media di 40 metri, nel centro città, dove si può arrivare da tutte le traverse, ovviamente dove queste traverse poi nella richiesta c'è anche la fornitura di vettori elettrici, pullman elettrici con ricarica al ribalta che faranno diciamo le trasversali poi attraverso, e quindi anche questo, così come nella proposta adesso lo vedremo, quindi questo è il primo punto, questo è il punto fondamentale sul quale noi abbiamo chiesto e che adesso vedremo, perché la regione ha fatto una serie di ostacoli, ma l'appalto è già stato fatto così, sul percorso c'è questa necessità, tu guardate, trovate il sistema, ci sono mezzi ormai che la tecnologia consente con ricarica a terra, ci sono mezzi che hanno delle grosse batterie, che quindi per alcuni tratti possono essere, ovviamente per il tratto che riguarda cosenza possono andare senza nessun tipo di sospensione di cavi, ormai la tecnologia offre tante possibilità, quindi voglio dire loro, mi hanno detto che questo è possibile farlo e quindi di conseguenza questa proposta vedremo, adesso mi hanno detto che devono verificare se è possibile attuarli. Io voglio andare avanti però con un attimo, velocemente con le immagini, vedete questo è il viale, lo vedete dalle immagini, questo tratto di circa lungo due chilometri che parte qua da due fiumi, pensate questa potrebbe andare, nella parte iniziale qua sarà tutto nel caso con dei giochi d'acqua che viene attaccato ai due fiumi, da quest'altra parte pure viene sostanzialmente, viene ad essere anche questo, quindi si allarga un po' questo centro commerciale e viene pedonalizzato da una parte e dall'altra, sia a sud che a nord, nelle richieste c'è anche la cessione da parte della regione di quell'area che vedete sostanzialmente un cuore, che è quella del deposito dei capannoni delle ferrovie, quindi che diventa una sorta di cuore verde lungo il viale, questo vedete qua poi alla fine ci sono queste altre strade che vanno, questa è Corso Mazzini, ovviamente il 4 maggio, quindi questo diventa il quadrilatero di cui parlavamo che diventa pedonale, mentre ovviamente il viale parco si estende fino alla sopraelevate, vedete questa è un'immagine, ovviamente il progetto esecutivo se la regione approverà quest'idea dovrà essere realizzato nei prossimi 60-90 giorni e noi dovremo approvarlo, quindi non è che la regione può derogare dopo chi accetta questo nostro accordo, quindi sostanzialmente noi avremo questo grande polmone verde, vi assicuro che questo avrà una risonanza grandissima anche a livello non solo italiano ma europeo, perché si tratta di costruire un vero parco urbano all'interno dei fabbricati, non un barco delimitato dove ci sono poi uno ci arriva, ma all'interno di una città dove uno sostanzialmente può riversarsi come oggi succede, ma soltanto per la parte centrale fra l'altro con i veicoli e invece noi avremo questa possibilità, vedete questa è la parte iniziale che avevamo già in parte studiato con questi giochi d'acqua all'inizio dei due fiumi da questo lato qui a partire, poi ci sono degli schizzi, ecco questa è una questa è un modo per dire come il mezzo pubblico non inquinante passa attraverso questo grande polmone verde che diventa assolutamente un elemento diciamo di connessione, queste sono varie sezioni, abbiamo vari schizzi che stiamo portando, questa è la zona che noi abbiamo chiesto alla regione di cederci per fare delle attività sociali, fra l'altro questa è prevista e dovremmo recuperare alcune parti di edifici, dei vecchi capannoni che sono importanti dal punto di vista dell'archeologia industriale e invece poi fare una piccola, fare la chiesa, ho parlato anche col vesco perché lì c'è la chiesa di San Pietro e Paolo e quindi manca che adesso in un magazzino, però questo diventa un grande polmone verde con il vecchio traccio che quindi che apparterrà poi a questo progetto diciamo di viale parco che diventa un vero parco con questo cuore verde, queste sono le stazioni che vanno recuperate sul vecchio tracciato che viene elettrificato, quindi anche questo che è di proprietà ovviamente di ferrovie della Calabria perché poi per la parte di ferrovie dello Stato ovviamente non si può intervenire. Vedete qui il viale parco con le strade, ovviamente noi stiamo realizzando una viabilità alternativa perché uno può dire ma chiudete il viale parco al traffico e poi le macchine dove vanno. In realtà c'è da dire che noi già stiamo realizzando questa via a sinistra Crati, via Spezzano che collegherà il lato da via Reggio Calabria del ponte di Calatrava fino alla sopraelevata dal lato di Vagliolisi. È già una strada che è stata appaltata dal comune, l'ultimo tratto che è per una spesa di circa 800 mila euro abbiamo chiesto alla regione di realizzarlo come opera così alternativa alla viabilità del viale parco. Quindi pensate che noi da un punto di vista longitudinale anziché avere il viale parco con le auto avremmo via Popilia e poi la strada destra e sinistra Crati che sono via Spezzano e via Provinciale perché nel frattempo entro i prossimi mesi, spero mese di luglio al massimo agosto sarà completato il ponte di Calatrava e quindi sarà possibile girare diciamo dal ponte anche dall'altro ponte e poi congiungersi con questa strada che stiamo realizzando, il cui completamento che il tratto di via Reggio Calabria appunto sarà a carico ovviamente della regione per la parte che riguarda appunto la realizzazione. Quindi avremo anche come alternativa questa viabilità. Questo è un altro delle richieste, è un progetto che noi abbiamo già fatto, che stiamo portando avanti però adesso abbiamo chiesto alla regione, facciamo un accordo complessivo che non riguardi solo la metro, è arrivato a questo punto, siccome l'accordo qua doveva essere fatto prima, facciamo un accordo che riguarda tutto il sistema di mobilità all'interno della città, di trasporto pubblico urbano e anche le nuove opere pubbliche, poiché questo rientra in questo sistema di mobilità, queste sono delle stazioni hub, perché noi non vogliamo che i pullman extraurbani entrano in città, i pullman entrano in città, rovinano le strade perché le strade nostre non sono fatte per pullman pesanti, per mezzi pesanti e per strade extraurbane, i pullman non possono entrare nelle città extraurbani perché a parte che sarebbe vietato, inguinano perché sono mezzi pesanti, quindi abbiamo creato alle porte della città, vedete nella zona di Piazza Riforma, all'uscita dell'autostrada, su Via Panebianco come Porta Nord, a Vagliolise come Porta Est, a Piazza Matteotti, a Casali e poi voglio dire una parte di stazione, ovviamente questa come vedete, per esempio questa è quella della Riforma dove ci sarà fra l'altro fatto la piazza, vedete che qui viene organizzato con queste, non solo con i pullman, ci saranno ovviamente su queste stazioni ci saranno anche le bici elettriche e le auto elettriche e ci sarà questo scambio dei pullman extraurbani che non andranno più nella stazione delle autoline, che è assolutamente un sito molto inguinato, ma andranno queste stazioni qua. Ovviamente questo è un'altra delle cose che è previsto nell'accordo, nelle proposte che non abbiamo fatto che deve essere gettato dalla regione, quindi questo lo stavamo già portando avanti con le nostre risorse, ma abbiamo chiesto a questo punto che fosse inserito in questo progetto complessivo. Vedete queste sono le varie stazioni con le pensiline che sono già state progettate da noi, vedete qua c'è le autolinee che invece appunto diventeranno con questa copertura una sorta di grande mercato, non abbiamo un mercato, non abbiamo lì sotto a piazza Bilotti, non dobbiamo perdere la vocazione commerciale delle autolinee sostanzialmente, quindi lasciamo le pensiline ma avremo uno spazio coperto con una stazione hub dove sotto rispettiamo questa vocazione commerciale ma che nello stesso tempo diventa anche un'occasione appunto di avere uno spazio coperto che al centro città non abbiamo, che dobbiamo andare a Rende, a Metropolis per trovare adesso un contenitore diciamo che è chiuso o semi chiuso. Questi sono i pullman elezici che abbiamo chiesto alla regione, sempre in questo accordo se mai si dovesse chiudere con ricarica a ribalta che faranno le trasversali del viale parco, tenete conto che questo viale parco così come concepito se noi dovessimo firmare l'accordo rientra nel progetto appaltato della metropolitana, cioè sostanzialmente la ditta esecutrice poi presenterà un progetto entro 60 giorni come progetto esecutivo che prevede questo grande parco, quindi dal momento in cui viene approvato poi dal comune questo progetto la regione tenuta entro 12 mesi dal momento in cui viene approvato il progetto a restituire l'opera, perché comunque la ditta deve andare avanti che deve spendere 160 milioni di euro in pochi anni, quindi è chiaro che questo primo tratto noi abbiamo chiesto che sia la prima opera che viene restituita, viene realizzata e restituita alla città, quindi se i lavori dovessero iniziare presumibilmente dopo l'estate o poco prima dell'estate, vuol dire che l'anno prossimo noi abbiamo già questo grande viale verde con i pullman con la ricarica ribalta, noi abbiamo chiesto in questo percorso di continuare quel lavoro che abbiamo già fatto in parte con le strade centrali, con Piazza Bilotti e quindi alla regione di darci altri 5 milioni per i marciapiedi, per le piste ciclopedonali, per i percorsi tattili, che vogliamo fare? A continuare così come abbiamo promesso da Via Panebianco fino a tutto il Viale della Repubblica, vedete, a Via Montesanto, Via 24 Maggio, in modo tale che completiamo lungo quest'asse longitudinale che poi si collega a questo quadrilatero pedonale della città che noi andiamo a costruire, questa città fatta per gli utenti veri che poi sono i cittadini pedoni e quindi avremo tutti questi marciapiedi, così come quelli che abbiamo generalizzato, con le piste ciclopedonali, i percorsi tattili, a partire da Renta, da Via Panebianco fino ad arrivare qui a Via Montesanto e a Via 24 Maggio, compresso Via della Repubblica. Questo è il ponte, un'altra delle richieste riguarda l'esecuzione dei lavori di collegamento del ponte fra Cosenza e Rente sul Viale Parco, in modo tale che ci possa essere non solo la pista ciclopedonale, ma anche la possibilità di avere quest'arteria ormai che viene sostanzialmente utilizzata fino a Render. Poi l'altra richiesta che abbiamo fatto è quella di inserire in questo sistema di trasporto pubblico e di accessibilità anche dei sistemi di accessibilità nel centro storico. Noi arriviamo a Via Bendicendi, arriviamo lungo il fiume dove ci sono i box art per indendere, ci abbiamo messo quelle case in legno che sono i box art e da lì ci possiamo collegare con un sistema a funivia, con un'ovovia sostanzialmente al castello, vedete qua, si vede delle immagini, abbiamo già studiato, che parte da Via Bendicendi attraverso un sistema di quali questi sono i box art e arriva al castello in modo tale che le persone parcheggiano l'auto, i turisti e possono salire, poi scendono magari da lì e si prendono il centro storico. Quindi è un sistema integrato di trasporto pubblico che è parte dall'università da Rente, adesso qui evito di far vedere le cose di Rente, mi vaglio lì, se eccetera, ma perché sto trattando la parte di Cosenza, però voglio dire, è chiaro che tutto questo è compreso in questo accordo che noi, se la regione accoglierà queste nostre proposte, potremo andare adesso velocemente a firmare. Questo è l'altro progetto di cui volevo parlare, già lo conoscete, noi abbiamo ovviamente un'area che è evocata a cominciare lo sport, questa era un'idea iniziale, adesso finalmente in questi mesi ho lavorato moltissimo, ho incontrato non solo il commissario straordinario del credito sportivo, ma anche il presidente della Lega B e tutto lo staff, adesso loro verranno in settimana, abbiamo concordato una procedura per arrivare velocemente a realizzare queste opere, tenete conto che anche lo stadio della Juventus è stato realizzato in un anno e mezzo, così come quello di Udine, adesso c'è un interesse a riqualificare tutti gli ambienti sportivi italiani, hanno visto che abbiamo fatto un po' delle riunioni per arrivare ad individuare delle strade, la strada che abbiamo individuato è positiva, loro addirittura vogliono sfruttare questa opportunità come una sorta di best practice a livello nazionale, perché hanno capito che è il modo per riqualificare tutti gli ambienti sportivi in Italia, ormai gli ambienti sportivi sono un po' desueti, sono negli anni 60, non sono più adatti allo sport di adesso, sono strutture abbandonate che hanno problemi di manutenzione, oltretutto c'è un'occasione di qualificare anche la città, che sono pezzi che sono spesso nelle periferie, ma questi riqualificati ovviamente creano anche opportunità per queste zone così spesso degradate di essere riqualificate. Quindi noi abbiamo individuato tutta un'area che parte dalla piscina comunale, fino ad arrivare lungo, qui ci sono tutta una serie di lungoviali Magna Grecia, non solo lo stadio, ma voglio dire c'è il campo scuola, c'è l'ex bocciodromo con il tirassegno, ci sono tutti i cambi di calcio, diciamo dall'altro e dall'altro, quindi tutta una città dello sport. Immaginate che fra l'altro è lungo il fiume Cambagnano, quindi è chiaro che questo fiume, così come abbiamo fatto con la confluenza fra Crati e Busendo, ed è prevista quest'opera già nel progetto dei 18 milioni di euro, che adesso vedremo, che riguardano le opere nelle periferie, la riqualificazione degli argini del fiume Cambagnano, così come anche il fiume Crati e Busendo. In questo caso con massi, con terreno vegetale, avete visto con la geostuoia che fa in modo che non crescano più quelle canne e quindi si riqualifica tutto il fiume, intorno a questo fiume chiaramente lungo il viale, vedete, si crea questa città dello sport che ha sostanzialmente intorno al fiume anche qui le piste che si aggancia poi al viale Parco, quindi diventa un'arteria del viale Parco che va verso Castrolibero, verso Ovest e sostanzialmente qui ci sono tutte le attrezzature sportive, che sono il campo scuola, i campi di calcio, la piscina che è comunale, ricordo i campi da tennis, il bocciodromo, chiaramente qui ci vorrà anche un albergo, quindi adesso verranno i tecnici di questa piattaforma che ha creato la Lega B per portare avanti questi progetti, abbiamo individuato la strada, ci sono i fondi, ormai i fondi immobiliari non investono più, né sugli immobili perché gli immobili non danno rendita, neanche gli uffici, né tanto meno sui centri commerciali, i fondi immobiliari, tra l'altro questa la Lega B ha fatto un accordo con un fondo statale che è Infimit, è un fondo che ha una rendita anche, consente rendite basse perché sono fondi statali, allora noi dobbiamo semplicemente individuare la società di gestione del risparmio che è controllata dalla Banca d'Italia, dopodiché il fondo immobiliare, si costituisce un fondo dove per la maggior parte è lo Stato che mette le risorse che è già a disposizione per investire su questi progetti di riqualificazione, il Comune partecipa a questo fondo con il diritto di superficie che mette rispetto a queste aree, non solo lo stadio perché noi vogliamo riqualificare tutte le aree, quindi mettiamo lo stadio, il campo scuola, i cambi di calcio, il bocciodrome e tutto il resto, con questo fondo in 30 anni adesso noi abbiamo solo delle spese, invece in quel caso il Comune avrà un gespite praticamente nel fondo che otterrà anche una rendita negli anni e avrà l'occasione di riqualificare questo pezzo di città. Quindi questa è una procedura che abbiamo portato già avanti e che sta, se Dio vuole, vedete, ovviamente quest'area lungo il fiume verrà collegata a tutto questo, a sinistra abbiamo il fiume che sarà, come avete visto prima, riqualificato con queste parti verdi, queste piste ciclabili, questi percorsi pedonali, avremo dei collegamenti poi pedonali e anche diciamo che consentono alle bici di spostarsi all'altro lato dove sull'altro lato abbiamo tutti gli impianti sportivi. Alla fine ci sarà questa opera dello stadio che non è più uno stadio, soltanto diventa un luogo più piccolo per la verità perché ci saranno meno spettatori, meno posti, però voglio dire perché deve essere sempre pieno secondo questi che sono gli indirizzi della Lega senza la pista di atletica, forse riusciremo a salvare anche la tribuna numerata e quindi il cerchio si restringe solo la parte diciamo verso Cosenza e però in questo stadio si faranno concerti, si faranno spettacoli, ci saranno ristoranti, ci saranno multisala, ci saranno musei dello sport, mi hanno detto faranno dei salottini, VIP per gli spettatori, insomma sarà una struttura più aderente a quello che è il gioco del calcio di adesso. Questa struttura ovviamente come vedete è collegata a tutta la zona di San Vito, vedete qui addirittura è collegato con la piazza ai palazzi lì e poi alla zona alta di San Vito e anche dove abitano, dove ci sono il quartiere Rom, sul lato sinistro ovviamente, vedete tutta la zona che è già vocata come città dello sport e poi voglio dire su questa grande opera pubblica che sarà la città dello sport noi abbiamo già fatto richieste, abbiamo anche ottenuto attraverso i 2 miliardi e i 100 che sono stati stanziati dal governo con l'ultima legge di stabilità, i 18 milioni di euro che riguardano la riqualificazione delle periferie, 700 mila euro già sono stati appaltati per via Popilia, i lavori inizieranno da qui a qualche settimana, altri 18 milioni sono previsti fra il quartiere di San Vito, Alto, dove ci sono i Rom, con tutta una serie di attività che sono state adesso previste, però che riguardano appunto dei mercati, vedete qua ci sono sostanzialmente delle attività con orti urbani, con mercati, con attrezzature, con luoghi dove, questa è la parte bassa di San Vito, dove vengono anche densificate e con nuovi alloggi, voglio dire, intorno a questa grande opera pubblica che è la città dello sport abbiamo dal lato alto e ad ovest il quartiere di San Vito Alto con i Rom, poi il San Vito, Serraspiga e dall'altro lato l'ultimo lotto di via Popilia, quindi noi incidiamo sulla qualificazione, cioè portando pezzi di città in queste parti di città che sono state costruite malissimo negli anni 70, secondo questi criteri sbagliati dell'urbanistica di quel periodo che creava queste zone cosiddette, i piani di zone, adesso c'è qualche collega qua, che erano zone di edilizia economica e popolare dove si mettevano solo i ceti sociali meno abbienti, in qualche casa addirittura solo di un'etnia come nel caso Rom che è diventata un'area dove c'è il più alto tasso criminale, diciamo, della Calabria, quindi lì andiamo ad inciscono edifici identici, questa è l'ideologia della casa collettiva che ha prodotto tanti guasti in Italia, tutti questi edifici ripetuti, identici, senza nessuna identità, senza nessuna riconoscibilità, anche qui quindi c'è questo progetto di 18 milioni di euro, vedete questo è l'ultimo lotto di via Popilia, lì abbiamo problemi seri, perché non vanno alla differenziata, perché sono quartieri che hanno delle problematiche, che hanno creato poi problematiche anche alle persone che ci vivono e poi anche agli altri, a tutta la città in termini di sicurezza urbana e sociale, quindi vedete qua sono previste all'interno anche qui, delle riqualificazioni con altre attrezzature e servizi, sono previsti, vedete qua i palazzi che cambiano anche aspetto, diventano facciate che vengono rinnovate con facciate cosiddette che sfruttano i criteri degli edifici rinnovabili, che usano l'energia rinnovabile, quindi che però allo stesso tempo danno un'identità, sostanzialmente trasformiamo questi quartieri da quartieri, diciamo di edilizia popolare, senza attrezzature, senza servizi, senza opere pubbliche, senza quella riconoscibilità di identità, a quartieri invece di qualità, dove noi ingiriamo con i servizi, con le attrezzature, ma prima ancora con le opere pubbliche e facendo acquistare un carattere a questi spazi e poi incidendo, vedete qui con i mercati, sulle facciate, sui portici, questo è un lavoro già appaltato, sono piccoli spazi che già abbiamo appaltato e che si stanno realizzando, adesso compresi in queste aree. Questa è la riqualificazione di Vagliolisse, che era già un progetto che avevamo, adesso è compreso in questi 18 milioni di euro, è compreso anche il mercato ortofrutticolo che sarà spostato nell'area della vecchia scala commerciale che non è mai stato utilizzato e la polizia municipale che sarà, vedete il mercato ortofrutticolo, che ritorna quindi a Cosenza, in quel quartiere e che diventano queste rivigili, portiamo alla polizia municipale, compresi anche le somme in questo progetto, questo non c'entra con l'accordo con la regione, ma l'ho fatto vedere perché è finanziato in queste altre opere che noi, quindi è tutta una visione complessiva della città che va adesso ad integrarsi, che non sono piccole cose, insomma, sono cose che cambiano e stravolgono completamente il volto della città. Vedete poi ovviamente compreso nel progetto noi avevamo già ottenuto il finanziamento, avevamo già redatto il progetto, avevamo avuto l'approvazione da parte della soprintendenza, abbiamo fatto anche le procedure di gara, non abbiamo aperto le buste perché la regione non ha spostato le persone, dall'ex albergo Giolli abbiamo questo edificio, Mostro, io lo chiamo perché all'epoca Giacomo Mangini volevamo abbatterlo, non ci siamo mai riusciti quando ero presidente dell'ordine, ma è un edificio fuori scala che cambia tutto il contesto urbano e ambientale, paesaggistico di quell'area e lo riporta ad una condizione, diciamo, che è uno dei posti più belli, straordinari, ma c'è questo edificio che ne turba proprio da un punto di vista volumetrico, non è anche estetico, è solo formale. Quindi lì abbiamo fatto un progetto per demolirlo, vedete questo è l'edificio, come lo conoscete tutti bene, ovviamente questo edificio viene ridotto ad un piano, un piano e mezzo, quindi lascia immutato ovviamente tutto l'aspetto ambientale e paesaggistico di questo contesto, viene sulla stessa sagoma, perché lì c'è un problema anche di piano di assetto idrogeologico, quindi non possiamo neanche espanderci, diventa solo una vetrata con una facciata contemporanea che viene retroilluminata di notte e quindi diventa un edificio simbolo, diciamo, sotto c'è la scultura che adesso abbiamo posizionato di Alarico, in quel posto dove noi, fra l'altro, nel centro storico abbiamo realizzato tante opere che riguardano la messa in sicurezza dei fabbricati degli edifici pubblici, ma anche il restauro per il castello, per esempio i ponti storici, Corso Plebiscito, le stesse Palazzo Gervasi, stiamo intervenendo. Un altro dei progetti che è previsto nell'accordo è Santa Lucia, il secondo programma di Santa Lucia, noi abbiamo appaltato il primo, la regione aveva bloccato il secondo per una questione, diciamo, formale, adesso nell'accordo è previsto lo sblocco di quel progetto su Santa Lucia, è il secondo contratto di quartiere, quindi sul centro storico non solo abbiamo recuperato gli edifici storici, pubblici, ma dobbiamo cercare di creare le premesse perché i privati possano recuperare i loro edifici, se no crolleranno sempre. Il centro storico è una città, non è qualcosa, è una città che negli anni era già arrivata ad un punto di non ritorno perché le persone le avevano abbandonate, si sono spostati verso Rente, verso Castrolibero, ci sono stati dei piani regolatori di espansione, con quegli anni è stata creata l'università in una campagna di Rente, si è creata una sorta di città territorio, non è che possiamo andare adesso a riprendere queste persone e portarle nel centro storico, quindi è chiaro che crollano le case dei privati, perché se lui ha una casa nel centro storico, perché ce n'è più di una che lo so, però ha venduto lui, però se non l'avesse venduto, ha venduto perché ha potuto vendere, perché non aveva la possibilità di restaurare, perché se quelle case avessero avuto una rendita non l'avrebbe venduto, avrebbe fittato quelle case, con i fitti avrebbe avrebbe fatto un mutuo e avrebbe recuperato quell'immobile, quindi se le case, gli immobili non costituiscono una rendita, nessuno va ad investire perché altrimenti poi sono soldi fra dieci anni, vent'anni sono soldi perduti e quindi se noi non creiamo le premesse, poteva essere fatto con l'università, tanti anni fa non è stato fatto perché ci sono altri esempi, c'è Siena, c'è Bologna, c'è Urbino che è proprio una città universitaria, il centro storico, si è scelto di fare un'università fuori a Rente, si sono svuotati il centro storico, si è creato un altro tipo di città, territorio, con tanti pregi e tanti difetti, però il centro storico si è svuotato, se oggi continuiamo in questa strada, anche qua è l'altro punto su cui dico che non ho assolutamente cambiato idea, è l'ospedale e andiamo a svuotare anche di un'altra funzione, poi non possiamo dire fra dieci anni e vent'anni ma il centro storico crolla tutto, crolla perché non è che il comune può andare con soldi pubblici a restaurare o a mettere in sicurezza le case dei privati, il centro storico è una città che si è stratificata negli anni, immaginiamo se noi potessimo, se voi andate, vi ci perdete nel centro storico per quanto è grande il centro storico, ci vorrebbe il bilancio dello Stato italiano di un anno per recuperare tutti gli immobili, ogni immobile ci vogliono un milione di euro per recuperarlo dalle fondazioni, con le coperture, quindi immaginate quello, quindi l'unica cosa è fare sì che i privati possano in qualche modo investire sulle proprie abitazioni, per far questo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare ricchezze, ecco perché abbiamo puntato sui box art, su nuove cose, su Alarico, se non creiamo questo è venuto che facciamo parole, convegni, libri bianchi, libri neri, non si recupereranno è già ad un punto di non ritorno, questa è un'altra delle occasioni, il ponte di Calatrava come sapete di cui si era sempre parlato per vent'anni, lo abbiamo iniziato di sana pianta noi, non era stato fatto niente, è una fase conclusiva, sarà una grande opera somiglia al ponte di Siviglia, se andate a Siviglia e vedete il ponte di Calatrava a Siviglia vedete che intorno quante attività sono nate, anche lungo il fiume, tra l'altro lì vogliamo creare proprio lungo il fiume a Gergeri un altro degli assi vitali di questa città, immaginate questa, vedete qua adesso c'è un'opera, adesso con l'antenna che sarà alzata a breve di 90 metri, vedete la maestosità anche di un'opera di architettura contemporanea che riguarda questa, questa è il planetario, anche questa adesso si sta completando, in quest'anno avremo tutte e due queste opere completate e questo vuol dire che sostanzialmente immaginate questa città, adesso sabato mettiamo le sculture su Piazza Bilotti, 12 sculture di filosofi guerrieri, si sta completando il museo che sarà bellissimo, un museo di 1600 metri che diventerà anche sala polivalente per attività convegnistiche, per attività di eventi, con delle zone caffetterie, con dei risto shop, ci sarà anche un book shop all'interno, adesso stiamo anche spostando le altre sculture del MAM, abbiamo già in corso la procedura per eseguire i lavori di quest'ultimo tratto di Corso Mazzini, stiamo realizzando una piazza bellissima intorno a San Domenico che diciamo darà più spazio alla chiesa che si sta per restaurare, anche all'interno sta completando i restauri, anche il secondo chiostro verrà breve aperto come museo di arte contemporanea, quindi tutto il complesso quasi di San Domenico, compresa la piazza a distante, sarà un altro luogo eccezionale, io prevedo che lì ci saranno molti giovani perché veramente verrà, come già è nell'idea progettuale, un luogo magico con i due chiostri all'interno della piazza pavimentata all'esterno con il vert, quindi una città, ponte di Calatrava, planetario, Corso Mazzini, parco centrale, diciamo viale con lo stadio, queste non sono sogni, sono tutte attività che noi stiamo portando avanti, che sono in fase avanzata, cioè il ponte viene completato fra qualche mese, la stessa cosa il planetario, se firmiamo questo accordo con la regione il Viale Parco ce lo gozegnano il prossimo anno perché è già portato l'opera, il museo di Alarico è già addirittura fatta la gara, se la regione firma l'accordo entro tre mesi deve spostare le persone, noi abbattiamo l'edificio dell'ex giolo, quindi sullo stadio e sulla città dello sport ho già fatto tutto un lavoro preliminare, non solo di progettazione da parte del comune, quindi noi facciamo questo lavoro esclusivamente per il bene comune e per l'interesse dei cittadini, ma questo lavoro è stato condiviso dalla Lega che mi ha fatto tanti complimenti devo dire e ha detto guardi magari avessimo sindaci in giro, non voglio dire, di solito io non lo dico, però ho detto quindi io voglio portare questa cosa, diciamo che anche perché è in Galabria, la voglio portare in giro per l'Italia perché adesso noi dobbiamo riqualificare tutti gli impianti sportivi d'Italia e quindi ci serve indicare qual è la strada che i comuni possono fare anche agli altri comuni, quindi e questa è l'ultima proposta, questo non dipende dal comune, noi l'abbiamo offerto gratuitamente alla regione perché abbiamo fatto un'attività culturale su invasioni di architettura, abbiamo proposto, abbiamo detto l'ospedale è importantissimo, l'ospedale poteva essere fatto tanti anni fa, se avessero evitato di fare con le fonte gli ex articolo 20, tutti i complessi che poi sono adesso, il pronto soccorso è stato fatto pochi anni fa è già assolutamente inadeguato, lo era già quando è stato fatto perché quando non si ha una visione progettuale, non è che si spendono risorse, sono stati fatti solo colpi aggiunti senza nessun criterio, quello che è stato realizzato con criterio, l'unico edificio è quello degli anni 30 che è il vecchio ospedale a Padiglione che per quel periodo era assolutamente all'avanguardia, è rimasto sempre un edificio bellissimo a Padiglione che oggi potrebbe essere anche utilizzato per altre attività eccetera, tutto il resto che è stato fatto da quegli anni come il resto della città, d'altra parte la città 2000 che pure doveva essere la città moderna, contemporanea, a via Popili, a San Vito, sono tutti disastri proprio tipici di quel periodo degli anni 70, quindi è anche questo avvenuto nei servizi perché se voi immaginate come erano tutti gli acquedotti, anche se voi vi mettete a piazza 11 settembre, vedete già da lì l'acquedotto con la linea, anche lì era tutto studiato, perché prima studiavano gli anni 40, 50, 60, hanno fatto le cose per bene, poi è successo non so che cosa, poi alla fine tutte le città italiane hanno subito queste situazioni che vediamo, quindi per ritornare all'ospedale è chiaro che noi oggi dobbiamo porci l'esigenza di fare un ospedale che sia una macchina tecnologica, perché l'ospedale è una macchina che deve funzionare per soddisfare uno dei diritti fondamentali dei cittadini, tu questo non hai bisogno, lo so, che è quello il diritto alla salute, di cui tutti abbiamo bisogno prima o poi, però voglio dire è chiaro che questa è l'esigenza primaria, però non possiamo dimenticare che l'ospedale è nella città e quindi l'ospedale è un elemento catalizzatore come lo è l'università, come lo è il campo sportivo, come lo è il centro storico, come lo è tutto quello che è nella città, la città è come un grande corpo umano, che voglio dire è organico, se noi togliamo un bezzo è chiaro che poi quel corpo, non possiamo fra vent'anni, trent'anni dire ma lì è morta la città, è chiaro abbiamo tolto una parte vitale di quella città e quindi tutto, quindi noi dobbiamo rispettare, oggi oltretutto una volta c'era questa idea di portare tutte queste funzioni fuori, oggi noi parliamo di non consumare il territorio e quindi di riqualificare, riabilitare la città, già abbiamo queste città che si estendono, che sono diventate città territorio, anzi questa è un'idea che partiremo avanti anche per dire che bisogna farlo ormai questa città unica, perché non ha senso una città o senza renda un'università, la fanno a Rossano e Corigliano, che è su 15 km di distanza, l'hanno fatta negli anni 70 addirittura alla Mezzia, dove c'erano tre centri, San Biasi, Di Castro e San Deofemia, che non sono assolutamente, infatti vado lì e dico io sempre, ma scusate, quella città dov'è? Qui abbiamo una città che già esiste, abbiamo una città unica, ma non abbiamo un servizio di trasporto pubblico urbano unico, quindi le persone che si spostano da cose senza renda devono prendere le auto e le auto creano inguinamento e traffico, gestione urbana, non abbiamo il servizio di raccolta di rifiuti unico, abbiamo due consigli comunali, non possiamo fare un discorso di programmazione sul territorio anche per le zone industriali, per quelle verdi, cioè abbiamo una città che deve essere assolutamente unica, quindi io ho sempre detto al 2011, sono pronto anche a sciogliere subito il consiglio campionale di Cosenza pur di far sì che rimanga alla storia questa ormai città unica che è assolutamente necessaria. L'ospedale deve restare in quel posto, non può essere il vecchio ospedale, no, è un nuovo ospedale, anche questo ho cercato di spiegarlo, ma nessuno poi dopo anche della politica ne ha... è un nuovo ospedale, oltretutto dove propone la Regione, che fra l'altro non so con quale autorità, con quale competenza, perché la Regione è un ente che deve fare la programmazione, non vuol dire voglio farlo qui o qui, è il Comune, per il principio di susserietà, che fa il suo piano strutturale, una volta si chiamava piano regolatore, destina le aree in funzione di quelle che sono anche la visione complessiva di progetto della città, è l'ente più vicino al cittadino. Quindi ho detto sostanzialmente, vedete qui in queste tavole, questo è il progetto che proponiamo, questo è il Mariano Santo, questo qui vedete, il Mariano Santo, questo è l'ospedale, adesso queste sono le tavole di questo progetto, questo è l'area dell'ospedale, come vedete, queste sono le tre torri, quelle che hanno fatto, qui diciamo c'è il Vescovo Rosso, quella struttura. Allora l'ospedale, vedete l'area c'è già, l'area è tutta questa, se non avessero fatti questi palazzi sarebbe stato molto meglio, perché c'era una connessione, però l'area è già esistere questa, se vedete questi edifici, sono degli edifici che possono essere realizzati subito, perché questa collina è vuota e qui si può creare il congiungimento con il Mariano Santo con delle degenze. Questo è un blocco, come vedete è un blocco dove ci saranno il pronto soccorso in questa zona qua, e tutti i servizi più urgenti, tutte le, come si dice, tutte le... Sì, queste vedete, questo è, tutti quelli che sono le aree operatorie del Dipartimento d'Emergenza sostanzialmente, la rianimazione e tutto il resto. Quindi le degenze che sono qui, ovviamente, man mano avanzano di intensità, perché l'intensità alta deve essere vicina al blocco operatorio, mentre quella, diciamo, bassa può essere anche più lontana, quindi più si allontana, così come nel Mariano Santo, più diventa bassa l'intensità. E questa zona qua, del vecchio ospedale, questo è il vecchio ospedale, questo diventa un barco dove si demolisce tutto, tanto comunque si dovrebbe demolire, perché se si sposta all'ospedale in qualunque altro posto, quello diventa una zona da demolire, diventa un grande parco urbano, con scuola, con la facoltà, perché loro, voglio dire, parlano di università, e ci porta ricchezza nel centro storico, perché se si parla di università, allora portiamolo nel centro storico, portiamolo a Cosenza e a questa università. E qui noi abbiamo previsto anche la possibilità di fare in questa struttura l'università, creando appunto qui a margine gli uffici per i docenti e anche per gli studenti. Quindi adesso vi faccio vedere qua, vedete qui, quindi sostanzialmente si potrebbero già realizzare queste leggenze, vedete il nuovo polo ospedaliero, 109.000 metri quadrati, la facoltà di medicina e i servizi. Sostanzialmente sarebbe un ospedale nella città e un parco nella città e un ospedale che va nel parco, va nella collina. Vedete qui anche la possibilità di costruirlo, cioè subito, nel senso che alla fine si potrebbero già realizzare prima le deggenze, quindi senza spostare nulla, cioè si possono sulla collina già realizzare le deggenze, dopodiché si realizza il pronto soccorso dove c'è malattie invettive, sostanzialmente con il reparto di emergenza e poi si demolisce tutto il resto e si crea la facoltà di medicina, quindi si riattiva anche il Mariano Santo. Vedete qui, qui si vede dall'altro lato, questa è la deggenza, questo è il blocco che va su Viale della Repubblica, poi con il pronto soccorso, questo è il vecchio ospedale, questo qui con l'aria ospedaliera che diventa la facoltà di medicina. Adesso ve la faccio vedere, qui, voglio dire, vedete che ci sono le varie strutture, diciamo dalle aree operatorie, vedete tutto il blocco dove c'è il pronto soccorso con le aree operatorie, quello lungo, la deggenze è questa gialla e poi voglio dire tutto il parco è a margine, ovviamente le deggenze aumentando la distanza aumentano anche l'intensità. Vedete le deggenze come sono organizzate sulla collina, quindi diventa anche un ospedale che ha al centro, l'attenzione sull'uomo, sull'ammalato soprattutto, cioè l'ammalato che deve essere immaginato come un ospedale, come un luogo di umanizzazione, perché quando uno va in un ospedale già sta male, deve trovare un ambiente all'interno della città, vedete questi ospedali che hanno quelle coperture verdi, che prima abbiamo parlato, che non si vede dall'alto della collina, ma ci sono i collegamenti dedicati al personale, è tutto studiato, il trasporto meccanizzato dei materiali, le terrazze comuni che si affacciano di verde, affacciate sulla città, la sala operatoria per gli interventi programmati, vedete, è tutto studiato con queste, quindi è tutto studiato su questa deggenze che può essere costruita, diciamo, ecco che è questa qui sostanzialmente, che è nella collina, e quindi quei gradoni con la deggenze sono sostanzialmente ingassate in questo parco verde. Vedete poi, visto dall'alto, si vede questa, ecco, questo è il parco ospedaliero, quello che noi andiamo adesso a demolire, rimane solo la vecchia struttura, diciamo, dell'annunziata, con l'imbarco per gli studenti, diventa un grande parco nella città. E questo, vedete, è quel blocco che dicevamo del pronto soccorso che arriva sul viale della Repubblica, che sarebbe questa, cioè sostanzialmente dove c'è quella, dove c'è adesso quei gommisti, l'obbitorio, sostanzialmente, quella zona lì viene sostanzialmente inibita al traffico, per la maggior parte, si può creare al limite una strada solo laterale per far accedere a quegli edifici che sono a piano terra, dove ci sono quelle attività, per il resto ci vanno solo le ambulanze che arrivano direttamente al pronto soccorso. E quella stecca lunga parte da qui, diciamo, va verso dove c'è malattie invettive, diventa tutto il reparto di emergenza, collegato poi con l'adegenza a gradoni che è sulla collina e che si collega poi a Mariano Santo. Quindi sostanzialmente, alla fine, le auto possono essere, se si vuole portarle dall'altro lato, possono essere ingassate, così come avviene a Metropolis, diciamo, sotto strada, e quindi ritornare dopo il Vescovo Rosso, oppure possono scendere andando verso Piazza Cappello, in modo tale che da lasciare l'ingresso principale del pronto soccorso, eccetera, all'ospedale, e quindi consentire poi, vedete, questa struttura sostanzialmente che abbiamo visto è questa qui, vedete, questa è via della Repubblica, vedete via della Repubblica, qui sostanzialmente uno scende verso Piazza Cappello o va sotto, o va sotto con un inderrato, come succede a Metropolis, e si trova dall'altra parte. Qui ci vanno solo le ambulanze, questo è tutto il blocco, quello lì, che abbiamo visto in pianta, che è questo qui, vuol dire che lo vediamo adesso qui, ma in pianta è questo qui sostanzialmente, dove sostanzialmente ci sono, ecco, questo lungo qui, dove c'è il pronto soccorso qui con tutte le attività ambulatoriali al ciclo diurno e tutte le, diciamo, le sale operatorie che sono, mentre la degenza è sopra, in quella che sono i blocchi, vedete la degenza, nella collina, a Gradoni, quindi questo ospedale, quindi in realtà questa soluzione consentirebbe subito di partire con la costruzione, questo che ho spiegato da Oliverio, mentre su Vagliolise abbiamo un problema di viabilità, perché poi lì non è che le macchine vanno dalla S107 e devono svingolare, quindi bisognerebbe stravolgere tutta quella viabilità, poi non c'è lo spazio, perché devono demolire tutto, c'è il vingolo, c'è il fiume, quindi c'è il vingolo paesaggistico, c'è il vingolo idrogeologico, c'è il vingolo dell'alta, dell'elettrodotto, dell'alta tensione che va in derrato, ci sono le ferrovie della Calabria, quindi, cioè, lì ci vorrebbero, non so quanto, centinaia di anni per risolvere tutti quei vingoli, qui si può fare subito, cioè, si fa la degenza, così, sulla collina che è già vuota, è già destinata dal comune ad elizio ospedaliera, si utilizza il Mariano Sando per tutti i reparti, adesso quali sono quelli, neurologia, tutti quelli che non hanno bisogno di vicinanza col pronto soccorso, dopodiché si realizza il pronto soccorso con il dipartimento d'emergenza dove c'è adesso le malattie infettive e poi si abbatte tutto, si crea il parco col vecchio ospedale e con l'università, quindi un barco nella città, l'ospedale nel parco e nella collina, questa è l'idea e questo diciamo è il progetto che ho proposto anche a Presidente Oliverio, ovviamente qualcuno mi ha fatto il discorso che noi abbiamo pensato anche alla viabilità, ma poi qui ci sono problemi di viabilità, no, innanzitutto qui era previsto lo svingolo che poi l'hanno in qualche modo non lo hanno cassato dai finanziamenti diciamo del Cipe, io ero stato al Cipe, ero stato all'ANES ma hanno detto che era già passato al Cipe, adesso non si fa più, vabbè il macro lotto Rogliano-Cosenza che si dovrà fare perché è il tratto più pericoloso diciamo, è stato cassato, però anche qui abbiamo previsto la possibilità appunto di una viabilità alternativa, già studiata e già in progetto, vedete qui c'è l'autostrada, questa è l'autostrada con la direzione, questa è l'uscita a Cosenza dell'autostrada, questa è la rotonda, adesso ecco qua, questa strada vedete qui sono le strade che vanno all'ospedale e a Medicino-Cerisano, dall'altra parte c'è Viale Magna-Grecia e Castro Libero e poi c'è, quella è la parte più costosa ma voglio dire che si potrebbe realizzare poi in futuro, la bretella che collega alla soprelevata che va sotto i palazzi 12 metri sotto, una parte, un sottopasso e che arriva alla soprelegata e che poi si collega alla 107 che va sul tirreno o sulla sila, quindi sostanzialmente questa viabilità è una variante a chi entra a Cosenza anziché entrare nel centro città può andare da un lato verso l'ospedale o verso Medicino, dall'altro a Castro Libero eccetera oppure può arrivare anche sul tirreno o in sila attraversando con un sottopasso che costerebbe però questi intorno ai 14 milioni di euro quindi si dovrà fare successivamente ma qui parliamo di investimenti grossi perché pensate che già questi sono già immaginati come circa 200 milioni di euro di cui 160 già appaltati quindi non è che sia parliamo di cose che non si possono fare oltretutto se ci fosse veramente la possibilità quella soprelevata potrebbe diventare tutto un sottopasso che non ha senso quella soprelevata nella città si dovrebbe demolire in prospettiva creare un sottopasso e liberare quello spazio che la città acquisterebbe anche lì tutta un'altra sua valenza però questi sono progetti che non possiamo realizzare questi di cui ho parlato sono progetti che possiamo realizzare in questi anni che abbiamo già le coperture finanziarie non l'ospedale perché ovviamente questa è una proposta che non abbiamo fatto però per quanto riguarda tutto il resto compreso il Viale Parco il sistema di mobilità tutto il sistema degli hub il ponte di Calatrava il planetario che è già quasi in fase conclusiva lo stadio la città e lo sport tutto questo è realizzabile in questi anni chiaramente questo occorrerebbe un finanziamento aggiuntivo per realizzare questo sottopasso mentre anche questa qui delle due strade che collegano l'ospedale questo è sostenibile perché sono un milione e mezza strada e quindi è qualcosa che fra l'altro abbiamo compreso nelle proposte che noi abbiamo fatte alla Regione quindi mi pare che qui mi fermo perché ho fatto ci sono altre cose ovviamente questa era la visione diciamo complessiva del lavoro che abbiamo fatto in questi mesi e che ora ci attestiamo a portare avanti insieme a tutte quelle altre che sono le problematiche che voi giustamente dice le buche delle strade le situazioni di manutenzione tutte le questioni ci occupiamo anche diciamo di qualcos'altro che riguarda poi lo sviluppo futuro di questa città grazie grazie al sindaco chiuto